Nuovi importanti sviluppi nelle indagini per l'omicidio di Riccardo Muccelli, l'allevatore di 38 anni di Gairo, assassinato nelle campagne di Ierzu la sera del 12 gennaio 2022 in località Pelau. Il GIP del Tribunale di Lanusei, Paolo Amurru, ha firmato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Matteo Piras, 24 anni di Osini. Il giovane è ritenuto dagli inquirenti l'autore dell'omicidio che avrebbe compiuto su commissione. Secondo quanto è emerso nel corso delle indagini condotte dai carabinieri della compagna di Ierzu, coordinati dalla Procura della Repubblica di Lanusei, all'origine dell'omicidio ci sarebbero i rapporti tesi tra due gruppi familiari che sarebbero sfociati nell'omicidio di Muccelli. I militari hanno ricostruito la vicenda sia grazie alle testimonianze acquisite che con l'utilizzo di attività tecniche dalle quali sono emerse le responsabilità del 24enne. I carabinieri hanno eseguito stamattina l'arresto del giovane che è stato rinchiuso nel carcere di Lanusei e messo a disposizione dall'autorità giudiziaria.